Ciao, sono il maestro Vincenzo e in questa lezione ti parlerò del centinaio. Se non hai idea di che cosa sia, sei a posto giusto. Segui questa lezione e lo scoprirai. Dai, cominciamo! Completiamo insieme questa linea dei numeri partendo dal numero 90. Dopo il 90 viene 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e ci fermiamo un attimo qua. Appena aggiungo un'altra unità al 99 si forma una nuova decina indicata dal numero 100 che vedi in rosso. Ecco che si è formata la decima decina. Ti spiego meglio questo concetto. Come vedi nell'abbaco ho rappresentato il numero 99. Il 99 è formato da 9 unità, cioè 9 palline blu, e da 9 decine, 9 palline rosse. Ora aggiungo un'altra unità, cioè un'altra pallina blu. Cosa succede? Succede che le palline blu non sono più 9 come prima, ma sono diventate 10. Come sai, tutte non possono stare nell'asticina delle unità. Pertanto è necessario fare un cambio. Quindi raggruppo tutte le 10 palline blu e le cambio in una pallina rossa, cioè in una decina. A questo punto le 10 palline blu spariscono, perché sono state trasformate in una pallina rossa. Quindi le unità passano da 10 a 0. Sono rimaste le palline rosse. Ora però nella sticina delle decine si è creato lo stesso problema di prima. Le palline rosse sono diventate 10. E non possono stare tutte nella sticina delle decine. Pertanto è necessario fare un cambio. Quindi raggruppo tutte le 10 palline rosse e le cambio in una pallina di colore verde, cioè in un centinaio. A questo punto le 10 palline rosse spariscono, perché sono state trasformate in una pallina verde. Quindi le decine diventano 0, mentre il centinaio diventa 1, per la presenza di una pallina verde. Che cosa manca? Manca il simbolo della terza sticina, H. H è il simbolo del centinaio ed è di colore verde. Quindi nell'abbaco mi ritrovo adesso una pallina verde, 0 palline rosse, 0 palline blu. Cioè mi ritrovo un centinaio, 0 decine e 0 unità. In questo modo si è formato il numero che ha per cifre 1, 0, 0, che si chiama numero 100. Aggiungendo al centro una unità alla volta, potrà formare tutti gli altri numeri maggiori di 100, come lo è il 101, il 102, il 105 e così via per tutti gli altri numeri. Devi ricordare che 100 unità sono uguali a 10 decine e 10 decine formano un centinaio. Adesso uso i regoli per rappresentare il numero 100, come ho fatto prima. Sai benissimo che il regolo bianco vale 1, cioè una unità. Avvicino 10 regoli bianchi. E li raggruppo tutti. Raggruppando tutti i regoli ho formato un gruppo da 10. Questo gruppo può essere cambiato in una decina. Quindi 10 regoli bianchi si trasformano in un regolo arancione che vale 10 unità. Quindi 10 unità sono uguali a una decina, cioè 10 regoli bianchi sono uguali a un regolo arancione. Bene, prendo ora in considerazione il regolo arancione. Avvicino 10 regoli arancioni. Li raggruppo tutti. Raggruppando tutti i regoli arancioni ho formato un gruppo da 10. Questo gruppo può essere cambiato in un centinaio. Quindi i 10 regoli arancioni vengono cambiati in un regolone grande verde che vale 10 decine, cioè un centinaio. Quindi 10 decine, cioè 10 regoli arancioni, sono uguali a un centinaio, cioè un regolo grande verde. Ricapitoliamo tutto. 10 unità, cioè 10 regoli bianchi, si cambiano in una decina, cioè in un regolo arancione. A sua volta, 10 regoli arancioni, cioè 10 decine, si cambiano in un centinaio, cioè in un regolo grande verde. Alla fine di tutti questi campi si ottiene il numero 100, formato da un centinaio, 0 decine e 0 unità. Devi ricordare che 100 unità insieme formano 10 decine. 10 decine insieme formano un centinaio. Spero di essere stato chiaro nella spiegazione e spero che ti servirò d'aiuto. A presto, alla prossima lezione, sempre sul mio canale YouTube. Buon lavoro a tutti e soprattutto buon studio.